Eccoci quindi qui ragazzi, allora come vedete sono tornati i marchesi rosso-blu per parlare un pochino di calciomercato abbiamo intenzione di ricominciare a fare video un po' più regolarmente per parlare di tutte le possibili notizie sia ufficiali che non inerenti al nostro dubbiaccio detto questo, allora, vogliamo fare questo video per parlare di due ufficialità che sono effettive si, hanno firmato si, hanno firmato quindi sono praticamente ufficiali e per dirvi un po' ovviamente le nostre opinioni a riguardo visto che appunto siamo veramente dei grandissimi esperti di calciomercato e ci vantiamo di esserlo, vero? vabbè abbastanza dai no comunque a parte le stronzate allora, i due giocatori che sono stati ufficializzati sono Cenciarelli e Filippini evviva Sergio Ramos, con l'aggiunta di un quarto di Sergio Ramos e tre quinti di Totti che bisogna giocare allora no, a parte i scherzi Filippini, sono sincero ne ho sentito parlare perché quando era con i Giovanni della Lazio, me lo ricordo però ecco, conosco anche per un fatto logistico, lui è di Umbertide quindi a livello calcistico lo conosco abbastanza e Cenciarelli è veramente un colpo da 90 ragazzi veramente perché sono a me che inquadri? perché parli tu come nei migliori studi che inquadrano la persona che parli esatto, vedete la tecnologia no vabbè comunque sia cioè Cenciarelli è sicuramente un colpo da 90 è stato definito uno dei migliori centrocampisti della Serie C classe 92 ha 27 anni quindi nel pieno della potenza di un giocatore della maturità calcistica e è quel giocatore possiamo confermare anche un nostro amico che segue la Viterbese ha confermato che Valentino che è amico nostro che conosciamo che è di Gubbio però soprattutto una ragazza di Viterbo e via Viterbo e quindi ha potuto vedere tutti e due gli aspetti e anche lui lo ha considerato un ottimo colpo per noi quindi comunque è positivo il fatto che si sta lavorando in entrata per cercare di prendere giocatori non solo giovani che possono esplodere da un momento all'altro ma anche giocatori che conoscono la categoria perché comunque per me soprattutto a questi livelli è importante fare un po' un connubio di tutto cioè tu puoi prendere un giocatore esperto un giocatore magari che ha fatto bene in Serie D che potrebbe far bene anche in Serie C ma devi prendere anche giocatori che sanno cosa vuol dire giocare in questa categoria e invece il secondo nome? Filippini è un terzino sinistro classe 95 che giocava con la Lazio tanti anni come nel giovanile ha fatto tutta la trafila giovanile nella Lazio e ultima stagione ha giocato con la Cavese un terzino veramente molto interessante se ne è parlato molto bene mi sono documentato anche su di lui è un giocatore comunque sia che ha molta spinta corre tanto e quindi è quel giocatore che sicuramente ha preso il posto di Pedrelli perché è un terzino sinistro e può essere quel giocatore che ti può dare quello sprint in più sulla fascia come poteva essere i vari Calombo anche se Calombo aveva un bello sprint in velocità porca miseria era molto molto veloce comunque è sicuramente positivo che il Gubbio sta lavorando per rinforzare mai fatto un calcio mercato così attivo esatto soprattutto è positivo il fatto che ci stiamo cercando di muovere già fin dalle prime battute perché di solito gli acquisti li facevamo però ci mettevamo sempre un pochino di più arrivavamo a metà finale magari prendevamo 3-4 giocatori in due giorni e non avevano neanche il tempo di ambientarsi bene invece comunque il fatto almeno secondo me che si stia facendo la squadra già in queste prime battute è positivo perché vuol dire che si vuole dare al nostro nuovo allenatore una squadra che si crea anche nel periodo estivo nel senso che i giocatori imparano a conoscersi imparano a capire cosa vuol dire essere un gruppo unito e visto che abbiamo un allenatore che con i giovani comunque ha avuto una buona esperienza sicuramente è positivo per noi assolutamente sì ma più che altro se tu ti ricordi bene non so se voi avete rivisto i video passati sicuramente avremmo detto tantissime volte guardate ora ecco stoppate il video e poi lo vedete ora comunque se voi guardavate i nostri video precedenti dicevamo sempre la stessa cosa a centrocampo 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 non abbiamo che gira il gioco centrocampo quindi oltre al fatto abbiamo preso anche sbaffo che qui nel centrocampo è veramente forte non so quante volte hai portato il centrocampo esatto è veramente forte hai fatto bene a nominarlo perché comunque non abbiamo parlato di lui nei precedenti video e bisogna comunque un po' aggiornarci ecco lo ammettiamo e comunque ragazzi dopo faremo un video repilogo dove parleremo di tutte le sessioni e di tutte le entrate del gubbio state tranquilli chi abbiamo tralasciato verrà sicuramente rinominato nei prossimi video a seguire perfetto comunque sbaffo cenciarelli malaccari quest'anno abbiamo veramente un centrocampo di buon livello veramente ottimo comunque è un centrocampo che manca la punta ancora deve ancora arrivare al centroavanti esatto perché comunque è partito è partito Marchi è partito Chinellato è partito anche Plescia sono tutti giocatori comunque sia che devono essere sia numericamente che tecnicamente non ce l'abbiamo proprio non ce l'abbiamo proprio esatto quindi comunque almeno un centravanti di peso ti serve abbiamo preso Cesaretti ma è un esterno sinistro no ha fatto un picigol ma è un esterno sinistro no non c'entra nulla assolutamente secondo me comunque tu devi cercare di prendere giocatori che secondo me almeno in questo caso conoscono il campionato poi magari è vero ti può capitare il marotta di turno che presi da una squadra di serie D e anche in una categoria più sopra ti fece quasi 20 gol 20 gol ha fatto fece un'annata strepitosa però è altresì vero che comunque preferirei puntare magari su un giocatore anche un pochino più esperto cioè alla fine comunque conta poco l'importante è che i giocatori vengano qua certi di voler fare il bene del gubbio e di saperci riuscire ecco ovviamente sono frasi un pochino fatte però comunque l'obiettivo secondo me è questo cioè bisogna prendere attaccanti che indipendentemente dal nome vogliono impegnarsi al massimo per questa maglia si parla di Sarau speriamo che sia lui sia parlato di Gondo Sarau quel che Sarau Sarau quel che Sarau giustamente però Sarau è sicuramente il primo obiettivo di mister notari sì mister notari del presidente notari ma si fa un po' tutto dai soldi è la crisi di mister Guidi è la crisi è la crisi fatto sta che Cingiarelli era il pallino fisso di mister Guidi l'ha voluto a tutti i costi sono contento perché è veramente il centrocampista che ci mancava esatto e poi guarda riprendo anche un discorso che di solito faccio anche nei miei video sulla Roma che si può sbagliare si possono sbagliare gli acquisti si possono sbagliare gli allenatori però di principio per me l'importante è che si faccia un mercato in base alle idee dell'allenatore è inutile prendere giocatori a vanvera tanto perché devi avere numericamente otto difensori otto centrocampisti sette accanti ad esempio cioè devono servire anche quei giocatori che sono magari specifiche richieste dello stesso mister magari quei giocatori che tu dici c'è l'allenatore che lo vuole questo è il barro della diretta ragazzi si è spenta la luce comunque stavo dicendo servono anche quei giocatori specifiche richieste del mister che magari appunto possono fare il bene del proprio gioco quindi il fatto che il mister finora sia stato accontentato per la maggior parte dei giocatori richiesti è positivo vuol dire che gli si vuole dare una mano gli si vuole venire incontro esatto ci saranno delle novità importanti che non possiamo dire adesso esatto lo diremo a tempo debito non vi faremo nessun spoiler di nessun tipo perché non vogliamo neanche rovinarvi la sorpresa e magari dire cavolate se le cose non dovessero succedere ecco vogliamo andare un pochino cauti però comunque a livello di calciomercato qualcosa sta bollendo in pen esatto non aggiungiamo altro detto questo ragazzi allora fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di queste sessioni di mercato lasciate un mi piace iscrivetevi al canale l'anime arcane su blu number one and number two o one two one e ti piacerebbe e ci vediamo presto per un altro video e un saluto e forza cupio sempre yeah yeah